Nuove informazioni rivelate per Inazuma Eleven Victory Road, se siete qui per la data di rilascio mi dispiace ma non c'è. Se invece volete saltare qualche parte del video trovate in descrizione tutti quanti i timestamps e si riferiscono a quello di cui parlerò in quella specifica parte, quindi fate voi. Inoltre mi sono permesso di scrivere con un italiano comprensibile quello di cui si andrà a parlare nel video. Ma cominciamo! Iniziamo questo video facendogli auguri a Inazuma Eleven che oggi compie ben 15 anni, infatti uscì il 22 agosto del 2008 in Giappone. E con esso arrivano anche novità riguardo i nuovi progetti di Level 5 per Victory Road. Il gioco ormai sembra essere in uno stato molto avanzato di completamento verrà mostrato a Tokyo Game Show che si tiene dal 21 al 24 settembre. Inoltre TV Pegachan ha rilasciato in anteprima esclusiva, dato che è un ambasciatore di Level 5, degli artwork sui nuovi personaggi, tra cui due inediti. Abbiamo un difensore, Kodokai Kameo, sembra un po' uno scogliattolo ad essere sincero, però i difensori sono sempre grossi, almeno uno grosso per squadra c'è e lui è bello piazzato. Non mi piace molto il design, con quegli occhioni giganti, magari se erano un po' più piccoli erano meglio. Per me è, poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti. Lei invece è un attaccante, pensavo fosse una manager, infatti nei post su Instagram ho scritto manager, no, in realtà è un attaccante. Si chiama Shinohara Raika, bel nome. E poi abbiamo anche ovviamente un altro difensore, che è un personaggio che sinceramente il design è abbastanza carino, che si chiama Kisoji Heita, se non sbaglio questo è il simbolo HE. Anche se qua al lato dice Hyota, ma in realtà non riporta con il simbolo, ma non ha importanza. Ad ogni modo, questi qui sono i primi tre personaggi. Poi andiamo a vedere l'uniforme di una scuola. Questa è l'uniforme della scuola Nagumohara. Ora, non ricordo se Nagumohara è la scuola dove noi iniziamo l'avventura. Questa qua è la divisa dei dieci giocatori in campo e il portiere, eccolo qua, che ha sempre queste maniche lunghe in Azuma Eleven e ne ha fatto un marchio di fabbrica. E carina? È nuova, ovviamente. I colori mi piacciono molto. Quelli del portiere, il colore del blu, quello del portiere è molto molto carino. Mentre l'uniforme bianca, vabbè, il bianco va sempre bene, comunque sia un classico, quindi ci sta la fascia del capitano, è rossa. O tendente all'arancione, comunque. Quindi molto molto carina. E come ultima informazione è stato rilasciato un nuovo personaggio che sembra discendere da una linea di giocatori simile a quella di Mark Evans. Quindi ha del sangue reale, tra virgolette. E Ino ha detto che non ha rilasciato il nome, però dobbiamo indovinarlo noi. Sinceramente mi viene in mente pochissima roba. Direi che forse discendi dalla linea di giocatori che abbiamo visto però non nell'anime ma nei giochi, dalla famiglia dei fulmini. Non credo, visto che comunque sia, sarà un personaggio che è apparso anche nell'anime. Però staremo a vedere. Tra l'altro sono stati decisi i doppiatori di Unmei Sasami, che è il ragazzo che sarà il nuovo manager, e Haru Endo, che sarà uno dei protagonisti. E TVPega-chan dice che ha sentito la voce di Endo Haru ed era una voce che sentiva i geni di Endo. Probabilmente intende che era una voce che è simile a quella di Mark Evans, insomma di quella famiglia lì. Che abbiano richiamato Junko Takeuchi a doppiare Mark? Non lo sappiamo per il momento. Poi passiamo alle altre notizie. Intanto Ino dice che ha dovuto rivoluzionare parte del sistema di gioco per adattarlo all'era moderna. Ok, certo, non si potrà più toccare semplicemente come una volta, perché ovviamente dobbiamo giocare anche con un controller tradizionale, quindi ha dovuto un attimino rimodernizzare il tutto. Avremo nuove modalità di gioco per quanto riguarda il confronto tra i giocatori e l'uso di tecniche sul campo. Tanto per cominciare sono aboliti i punti tecnica singoli per ogni giocatore. E io sto impazzendo dalla gioia. Era ora che si levassero i punti singoli per ogni giocatore e si usasse una specie di mana che va a tutta la squadra. In questo caso si chiama tensione. E questa barra che si chiama tensiometro verrà caricata tutta quanta la partita. Quindi quando fate uno scontro, quando fate un passaggio particolare, tipo un passaggio filtrante oppure, se ne so, fate un gol, ecco, la barra si carica. E quando usate una tecnica si scaricherà parte della barra. Secondo me è una rivoluzione enorme per Inazuma Eleven e cambierà totalmente il modo di giocare, visto che una volta facevi affido sul singolo giocatore e su quanti punti avesse, ora invece hai tutta una barra da usare. Speriamo che non si scarichi tra poco velocemente, anche se alcune tecniche, ovviamente, richiederanno per forza l'uso di una quantità maggiore di energia. Se vi ricordate poi, in Inazuma Eleven, quando si arrivava davanti alla porta dovevi per forza tirare, non potevi fare altro. Tecnica, tiro veloce, pallonetto. Invece, da oggi si può anche passare la palla al compagno vicino. Abbiamo anche poi lo scontro classico dove conta l'abilità del giocatore, la forza dei dati, attacco e difesa probabilmente, e fortuna. Secondo me sarebbe da rivedere un po' tutto il concetto dei singoli punti. Magari forza dei dati sta ad indicare che non saranno tutti dei singoli dati ma il complessivo, un valore complessivo di tutto. Quindi magari un giocatore come in FIFA 100 punti, quindi in Inazuma Eleven, una cosa molto simile. Tra l'altro questo nuovo sistema di gioco sarà possibile vederlo e analizzarlo meglio nel video che uscirà il 31 agosto. Inoltre sarà possibile giocarlo effettivamente a Tokyo Game Show a settembre. Toccando a Tokyo Game Show. Interessante il fatto che Ina voglia organizzare dei Football Frontier nel gioco online. E secondo me non funziona molto questo tipo di gioco perché Football Frontier prevede che tutti i giocatori si incontrino in orari da loro prestabiliti, non dai level 5 ma dai giocatori stessi, e si scontrino in quell'arco di tempo. È molto difficile organizzarsi tra amici figurati tra due persone che non si conoscono e che vogliono vincere a tutti i costi. Non è molto pratico. Però devono ancora definire tutti quanti i dettagli, quindi cambieranno qualcosa. Si dovrebbe andare in loco come tutti quanti gli altri e-sports. Bello il fatto che una squadra non sarà sempre la stessa. Infatti ogni tre stagioni si cambiano sei giocatori. Ma cosa vuol dire cambiare sei giocatori? Vuol dire che nella tua squadra hai cinque giocatori prestabiliti che terrai per sempre, fino a che non decidi di cambiarli. Mentre questi altri sei giocatori li terrai per il corso di tre stagioni. Quindi primo anno, secondo anno e terzo anno, perché poi si diplomano e se ne vanno dove devono andare. Lo sanno loro. E la stagione è prevista per due o tre mesi, stanno ancora definendo dettagli. È molto utile per non avvantaggiare nessuno. Così devi essere bravo tu per forza a giocare. Se poi sei una pippa come me, quello lì non cambia nulla, fai schifo a prescindere. Però non può avvantaggiare nessuno. Questa è una bella pensata. Dice inoltre che tra questa rosa di sei giocatori che cambiano in continuazione, si possono anche trovare personaggi del passato. Tipo i giocatori dell'Alius Academy, tipo tutti quelli della Raimon, della Royal. Bene. Hanno trovato anche la voce per Endo Haru e la sentiremo nel trailer. Attendiamo con ansia. E poi, Dino, io ti voglio dire un'enorme grazie perché solo al lancio, ma a quanto pare, avremo gli spiriti guerrieri. Niente Totem e niente Miximax. E neanche le armature. I Totem non li ha neanche menzionati perché fanno schifo anche a lui, secondo me. Si è reso conto che ha fatto una cagata. E i Miximax e le armature per il momento niente. Solo gli spiriti guerrieri. Darli a tutti i giocatori non è facile. Però, se vuole darli, effettivamente, magari, avremo alcuni spiriti guerrieri di base per tutti quanti i giocatori e poi potremo cambiarli al nostro piacimento. Spero che il gioco durante la storia, ok, sarà limitato da alcuni giocatori, forse. Ma a tutti quanti gli altri giocatori, quando dovremo allenarli, quando dovremo cambiare una tecnica, potremmo fare come ci pare o dovremmo spendere dei punti che guadagniamo nella storia. Perché poi Victory Road è la modalità di gioco nella quale ci affrontiamo online e abbiamo tutta quanta la rosa di Nazume Eleven, di tutti i personaggi creati fino ad ora. O quasi. Perché alcuni, ovviamente, non entrano per forza di cose maggiori. Sono molto curioso di scoprire questo aspetto del gioco, che probabilmente vedremo neanche a Tokyo Game Show, ma quando uscirà direttamente il gioco, con un trailer, magari, dedicato prima del lancio. Però il 31 agosto è il termine ultimo per il nuovo trailer, dove avremo le voci di Sasami e di Endo Haru. Non vedo l'ora. Questo è quanto abbiamo per il momento in possesso. Sono molto, molto fiducioso per questo nuovo titolo. Magari poi il 31 esce il trailer, è una cagata di gioco, tutto diverso da quello che abbiamo visto fino ad ora, e ci farà schifo. Ma dubito, dubito. Non è tanto il fatto che è in sviluppo da sette anni. Anche. Ma il fatto che uscirà, a detta di Eno, e stavolta voglio credergli, in contemporanea mondiale. Io questo aspetto solo. L'uscita mondiale. L'uscita dello stesso giorno per tutti. Poi verrà liccato, ma comunque. Queste sono le notizie per oggi. Amici, ci vediamo, ovviamente, con nuove news il 31 agosto. E l'ho detto una volta sola questa frase, ma mi sembra appropriato. Giochiamo a calcio. No, ma un po' cringe.